Per la ventiduesima giornata di eccellenza a Lazio Ricci di Pratola Pellinia si sfidano Nerostellati e Nereto, entrambe intenzionate a ritrovare il successo. Padroni di casa privi dell'infortunato 40 che siede in panchina, confermato il tandem d'attacco Pendenza-Onua-Shi. Nella formazione ospite, fuori l'attaccante Lazzarini per infortunio. In avanti agisce Di Eleuterio, spalleggiato da Antonacci con Calderaro, prezioso elemento d'appoggio. A provarci per primi sono i Nerostellati con il colpo di testa di Pendenza che interrompe la prolungata fase di studio. Poco dopo è sempre di testa che il Nereto si fa vedere in avanti con Zeetti che stacca su corner dalla destra. Alla mezz'ora il risultato cambia con l'inzuccata di Pendenza che non lascia scampo a Di Giuseppe per l'1-0 di marca Pratolana. La risposta ospite arriva prima dell'intervallo quando è il palo a respingere il tiro cross di Bellini e a salvare il portiere Peligno Amo colto di sorpresa. Nel secondo tempo il Nereto cerca di alzare i ritmi ma i Nerostellati ribattono colpo su colpo. Sulla punizione di Del Gizzi c'è il tocco della barriera a richiamare i riflessi di Di Giuseppe mentre al 75esimo mister Saccoccia inserisce Verrocchi per Iacobucci. All'81esimo è il numero uno di casa Amo a mettere in corner un pallone velenoso. Il tecnico ospite De Feudis sposta il difensore centrale Zeetti in attacco. E' questa la mossa che porterà al pareggio rosso-blu arrivato all'88esimo proprio con Zeetti che ringrazia la difesa pratolana sempre più in clima di saldi d'inverno. Il Nereto ci crede e al 92esimo effettua il sorpasso con il destro a giro di Antonacci che fa esplodere di gioia la squadra rosso-blu con la tifoseria al seguito. Nerostellati colpiti e affondati, nulla di fatto sul calcio di punizione di Verrocchi che precede il triplice fischio finale del signor Domenico Colonna di Vasto. Per la prima volta nel 2019 vince ed esulta il Nereto. Perdono ancora invece i Nerostellati alla quarta sconfitta consecutiva che complica il percorso salvezza dei Peligni. Così nel dopogara l'allenatore ospite Michele De Feudis e il dirigente pratolano Pierpaolo Zavarella. De Feudis è stata una gara maschia combattutissima fino al triplice fischio finale a spuntarla è stato il Nereto. Dopo il pari non vi siete accontentati? No, è stata una partita si maschia perché il campo magari ti permetteva poche cose a livello tecnico quindi è stata una partita combattuta dove sapevamo che magari i Nerostellati nel secondo tempo sarebbero calati e quindi noi siamo stati bravi e fortunati ad approfittarne là. Anche se devo dire all'unica occasione, all'unico cross abbiamo preso gol il primo tempo e quindi poi la partita si è complicata perché su questo campo recuperare la partita è difficile diciamo che più per forza di nervi che per qualità tecniche siamo riusciti a spuntarla. Cammino salvezza che si complica maledettamente per i Nerostellati. Si complica maledettamente come hai detto bene tu però noi siamo consapevoli della nostra forza cercheremo di uscirne fuori la squadra secondo noi è abbastanza buona e quindi possiamo giocarcela con tutti vediamo un po' cosa possiamo fare e che magari ci riusciamo a tirare fuori con i nostri uomini di esperienza ci danno qualcosa in più.